e visto che qua ce ne sono tanti vicino ai cantarelli che ho trovato vi faccio vedere anche il clitopilus prunulus o spia del porcino sul cui ho già fatto dei video vedete il colore bianco grigiastro del cappello le lamelle che negli esemplari più maturi diventano di un color tenuemente crema sono decorrenti sul gambo il gambo è bianco è molto caratteristico l'odore di farina bagnata detto anche prunolo bastardo è considerato una spia del porcino è un fungo in sé comestibile ma io non raccomando di mangiarlo proprio perché può essere confuso con degli altri clitopilus o degli altri funghi simili che sono tossici quindi usatelo semplicemente come spia del porcino e quando trovate questi fate attenzione perché in zona potreste trovare i porcini